A questo punto mi sembra chiaro che ci sia una volontà politica di non informare per quanto riguarda la sanità nel nostro territorio. Solitamente composto e moderato nei termini, il presidente della rappresentanza dei sindaci dell'Asda VCO Gianni Morandi, questa volta alza la voce, devo prendere atto che la richiesta di presa a visione di alcuni documenti è caduta nel vuoto o peggio, non si vogliono dare delle risposte. Raccogliendo sollecitazioni di altri miei colleghi, avevo chiesto di poter visionare alcuni atti che immagino siano stati prodotti in questi mesi. Mi riferisco in particolare al documento prodotto dall'Asda VCO quale contributo allo studio IRS ed eventuali implementazioni che lo studio stesso ha subito a seguito del contributo ASDA qualora sia stato preso in considerazione al documento prodotto dall'Asda quale proposta di utilizzo dei fondi PNRR per lo sviluppo della medicina territoriale e dalla eventuale risposta dell'assessorato regionale alla sanità alla lettera di richiesta di chiarimenti in riferimento allo studio IRS, inoltrata da me a nome della rappresentanza dei sindaci. Se sui fondi PNRR posso comprendere che ci siano state fornite varie informazioni nel corso delle varie rappresentanze, specificando che l'Asda ha proposto alla regione di utilizzare i fondi previsti per il finanziamento dell'organizzazione della medicina territoriale attraverso la realizzazione di tre case di comunità, una centrale operativa territoriale e un ospedale di comunità, oltre alle case della salute, spiega Morandi, e sappiamo che tutto questo passerà attraverso un percorso specifico che prevede tempi stretti e certezza del finanziamento, quello che sconcerta è un'evidente omertà su tutto ciò che riguarda l'evoluzione dello studio IRS e di tutto quello che tratta, cioè la programmazione futura di quello che va sotto il nome di sanità del VCO, ospedale compresi. Morandi dunque non le manda a dire. Se a distanza di otto mesi dall'ultima volta in cui ci è stato detto che era in corso una interlocazione tra ASD, IRS e assessorato, non ci viene concesso nemmeno di prendere visione di uno straccio di documento, conclude, è evidente che c'è la volontà di nascondere qualcosa. Non posso credere che in questi mesi non sia stato scritto nulla. Non c'è da stupirsi se i duri comunicati prodotti dai vari comitati acquistino sempre più credibilità e mettano a nudo uno stallo clamoroso in cui la sanità del piccolo VCO con pochi elettori è sacrificata sull'altare delle esigenze delle altre grandi province piemontesi con tanti elettori. Attendo fiducioso che qualcuno vi dimostri il contrario con atti e fatti, evidenzia il presidente della rappresentanza.